Ciao a tutti, oggi parleremo degli aspetti negativi all'estero Questo vorrei che sia un video dove io parlo, tipo parlo libero, mi sono solo scritto dei punti di cui vorrei parlare E quindi spero che sia proprio una chiacchierata con il mio amico dell'epoca, no scherzo Di sicuro l'anno all'estero è un'esperienza che ti fa crescere molto ed è una cosa bellissima Io non ci credo ancora che sono veramente un anno all'estero e adesso vi dico che il tempo sta passando molto veloce Siamo già quasi, siamo già a metà Ho imparato già molte cose, di sicuro ne imparerò molte come la lingua, troverò amici, farò belle esperienze Ma ci sono dei momenti in cui dico, ma chi me l'ha fatto fare di venire qui? Questa sensazione di essere un po' insicuro della scelta, di non aver l'italiano Questa sensazione di chi me l'ha fatto fare c'è stata molto all'inizio Soprattutto per quanto riguarda la lingua Rispetto a quelli che secondo me vanno in America e quindi l'inglese praticamente lo sappiamo già tutti È molto più facile entregarsi e trovare amici Qui col tedesco che io l'ho studiato solo un anno e non benissimo All'inizio ho veramente trovato problemi, soprattutto con la scuola Ma ora sono soltanto principalmente tre le materie che proprio non capisco troppo Che sono storia, filosofia, no, storia, matematica e tedesco Che sono veramente complicate Mi hanno chiesto di leggere un libro in tedesco e di rispondere e di sintetizzare tutti i capitoli E di capire dove si ambientava, cos'era la storia, cosa in realtà voleva il protagonista Cioè cose... Anche all'inizio trovare amici era difficile perché loro ti dicevano Ciao, come stai, come stai? E poi tu non sapevi come andare avanti perché appunto non conoscevi proprio bene i vocaboli E non sapevi come strutturare al meglio la frase E quindi magari ogni tanto ti sentivi escluso Quando tutti erano insieme tu dovevi stare zitto perché non capivi niente Un altro aspetto sicuro negativo dell'anno all'estero è la distanza da casa Che ogni tanto ti metti a pensare che cosa magari vedi sui messaggi dei gruppi I tuoi amici cosa fanno Magari ogni tanto ti piacerebbe essere lì con loro oppure con i tuoi familiari Ma anche se ci si sente una volta su Skype Poi si mandano snap a caso mentre sei in bagno Oppure, non lo so, Facebook, Instagram Adesso siamo tanto collegati però non è comunque mai la stessa cosa Come essere uno di fronte all'altro e parlare e poter schiatteggiare l'altro Schiatteggiare l'altro Schiatteggiare l'altro Un altro aspetto che non è molto bello quando siete all'estero È che alcune cose della quotidianità vi mancano Per esempio io alla mattina in Italia mi sveglio sempre presto Perché devo andare a scuola e non abito molto vicino appunto alla scuola E quindi io mi alzo da solo, faccio tutte le cose con calma E questo è una cosa quotidiana che io mi sveglio nella pace, tranquillità Faccio tutte le cose con calma Ma qui questa cosa mi manca un sacco ragazzi Mi sveglio alla mattina, ci sono i bambini che piangono E questa cosa alla mattina mi corrode dentro No, non è che non mi stanno simpatici ma Che sì che mi stanno simpatici Altro che ma Io alla mattina vorrei un po' più di calma E questa è una cosa della quotidianità Che dall'Italia mi manca Poi per alcuni può essere anche brutto Ma dopo che da un anno non prendi l'autobus E ti senti quando torni a casa tutti insieme Si faceva casino Casino In autobus si chiacchierava un sacco E anche questa è una cosa della quotidianità italiana che mi manca Il cibo è un altro aspetto negativo Nell'anno all'estero Perché sappiamo che noi italiani cuciniamo meglio Questo sì è vero Ogni tanto si mettono a cucinare delle cose italiane Che non ho mai visto in tutta la mia vita Che non sono ingeribili da un essere umano Per esempio i tortellini al formaggio alla carbonara Con l'uovo che sembra acqua sopra Va bene Questo è il mio pensiero riguardo Poi ci si perde un altro aspetto negativo Così capite quando inizio un altro Un altro aspetto negativo dell'anno all'estero È di sicuro che perdiamo molti avvenimenti importanti Io penso soprattutto a Tipo quest'anno sono gli anni dei diciottesimi Dei miei amici Quindi li perdo tutti E poverini Voglio bene Poi ci sono Ci sono altri avvenimenti Che magari non sono scritti su un calendario Che in cui potresti essere stato lì E questa è una cosa che magari ti Dà un po' fastidio E ti fa un po' dire Ma chi me l'ha fatto fare? Poi di sicuro Un aspetto negativo della cultura Della cultura Dell'anno all'estero È che dovrete Che bisogna riadattarsi in una nuova cultura Arrivate qui E voi siete Un puntino rosso In mezzo a un mare Bianco E quindi dovete riuscire a mimetizzarvi il più possibile Cioè non mimetizzarvi Dovete sempre tenere alto il vostro orgoglio italiano Ma Bisogna capire cosa fanno loro Rispettarli Visto che siete appunto nel loro paese Capire le regole E cosa fanno Dovete capire ogni tanto Aprire la mente Capire cosa fanno E riuscire a integrarvi con loro Un altro aspetto negativo dell'anno all'estero È che rispetto all'Italia Che avete degli amici già fatti pronti E imbacchettati Dovete trovarmi da zero Dei nuovi Dovete arrivare qua Come delle persone che si sono trasferite E riuscire a trovare degli amici Che vi Non che vi soddisfino Però che Con cui state bene insieme Con cui potete parlare Con cui potete Discutere qualunque cosa Ridere Divertirvi Ma questo Bisogna Secondo me è un punto negativo Perché Rispetto all'Italia Che tu hai i tuoi amici Belli là E invece qui devi Troppo partire da zero Tu non hai amici Quando arrivi qua Devi ricominciare tutto Uno degli aspetti negativi Che ho provato Sulla mia proprio pelle Che ho sentito più Importanti E di sicuro L'adattarsi alla nuova scuola Non per quanto riguarda Come è fatto Come è costruita Però Nel senso Capire il metodo Il metodo di insegnamento Dei professori Come ti puoi rivolgere a loro Come loro si possono rivolgere a te Come funzionano le verifiche Come funzionano i voti Poi Cosa puoi fare in classe Cosa non puoi fare in classe Puoi mangiare in classe Se non puoi mangiare in classe Fai i compiti a casa Fai i compiti a scuola Posso uscire alla ricreazione Non posso uscire alla ricreazione Posso andare a casa a mezzogiorno Devo mangiare in mensa Un sacco di cose Che Bisogna Rimuovere Mettere in un cassetto Quelle della vostra scuola italiana Ripartire da zero E Arrivare in questa nuova scuola E capire tutto Quindi Spero che il video vi sia stato utile Se avete domande Sempre Hashtag Hashtag Calzini sbagliati E Scrivetemi una domanda Che Tra poco Vorrei fare Un Q&A Ciao a tutti E al prossimo video